Il suo romanzo mi ha veramente commossa. Grazie. Il suo libro mi ha dato una speranza incredibile. È un libro difficile per me. Non deve essere semplice il momento che sta attraversando. Su un ultimo piccolo sforzo. Per una sua grande ammiratrice. Come è andata la serata? Ho incontrato una donna molto interessante. Ci ho parlato tutta la sera. Il successo, i commenti, la ribalta improvvisa. Immagino che lei sia a rischio di un esaurimento. Molto simpatica. Da quanto è che non scrivi? A me sembra che ti destabilizzi. Lei mi aiuta molto. Sì, ma mi inquieta. Mi occupo io di tutto. Va bene così? Tu prendi questo, ti farà bene. Tutti gli scrittori rubano fatti veri. Tu ti rifiuti di scrivere il tuo libro nascosto. Qualcosa di più intimo. Sembra quasi che qualcuno si sia impossessato di te. No, no. È uno che ti sa ascoltare e attenta agli altri. Hai paura di scrivere quello che devi scrivere. E basta con questo libro nascosto. Solo io so chi sei. E cosa puoi scrivere. Stammi a sentire. Non ho mai scritto per compiacere qualcuno. E non ho intenzione di cominciare adesso. Che tu la voglia o no, sei responsabile dell'amore che hai suscitato. Così è troppo. È pericoloso. È con questa verità che ti devi confrontare. Basta! All'improvviso è tutto chiaro. È di lei che devo scrivere. Il tuo libro ha permesso a questa violenza di esprimersi. Un giorno ti racconterò. Ha boccato l'amo. Un giorno ti racconterò.